Sostenibile, un aggettivo che sentiamo utilizzare molto spesso in questo periodo e che qui voglio utilizzare in particolare con riferimento al credito. Credito sostenibile. Negli ultimi anni stiamo assistendo in Italia a una crescita significativa e importante del ricorso al credito da parte di imprese, piccole e medie, da parte di consumatori, famiglie e anche molto da parte dei giovani. Ricorrere al credito non è di per sé un fenomeno negativo. Il credito è motore di sviluppo, il credito aiuta l'economia, però è importante rivolgersi al credito in maniera responsabile e facendo delle valutazioni accurate per quanto riguarda la sostenibilità del credito. Quando parlo di sostenibilità del credito parlo di un concetto che riguarda tutti gli attori dell'ecosistema del credito, le banche e le finanziarie sono tenute a erogare credito responsabilmente così come coloro che si rivolgono al sistema finanziario e bancario devono fare e anche in autonomia le più adeguate valutazioni rispetto alla loro capacità di restituzione del credito. Solo in questa maniera si può parlare di credito sostenibile e in favore di questo fine è molto importante elaborare delle buone prassi, delle buone prassi di sistema che siano condivise da tutti gli attori e che sostengano la nostra economia.